Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola di oggi. L'aria che si respira in casa Fiorentina non è delle migliori. La soluzione, le scelte, la partita di ieri impostata da Paolo Sosa non è piaciuta ai dirigenti della Fiorentina, non è piaciuta in particolare a Cognini, non è piaciuto l'atteggiamento e alcune scelte come quella di mettere fuori Astori e di applicare un turnover esasperato a detta dei dirigenti della Fiorentina. L'aria, lo ripetiamo, non è delle migliori, sicuramente influiscono i rapporti sfilacciati di queste ultime settimane. Un Sosa che non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro, ecco che non sarebbe clamoroso un addio di Sosa, non sarebbe clamoroso un esonero di Sosa se le cose contro la Juventus dovessero andare maledettamente male. Sembra incredibile parlare di questo dopo un girone di andata strepitoso, dopo tutto quello che è accaduto, ma in questo momento le distanze tra la proprietà, la dirigenza e l'allenatore sono enormi e pensare ad un Sosa che rimarrà al prossimo anno sulla panchina della Fiorentina sembra davvero fantacalcio. Viviamo nell'attesa, nella speranza di vedere una Fiorentina giocare bene contro la Juventus, fare risultato, applicarsi, ricominciare a correre, ricominciare a combattere, cosa che sta un po' mancando. Però lo ripetiamo, la Juventus sarà una partita decisiva anche per Sosa, nel senso che se dovesse andare veramente male, l'allenatore portoghese rischierebbe la panchina e i della Valle potrebbero sfruttare questa occasione per chiudere un capitolo e una storia che sembra destinata comunque a chiudersi lo stesso a domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.